esattamente quindi il comportamento più intelligente è l'apertura e il dubbio appunto pensiamo che cosa è successo negli ultimi 50 anni in termini di evoluzione tecnologica e tra 500 anni se andiamo avanti così se ancora ci saremo dunque adesso arriviamo all'argomento sul quale volevo farti proprio una domanda precisa io ho fatto un piccolo schemino grafico per cercare di rassumere il problema te lo faccio vedere allora il fatto che esistano degli oggetti volanti io ho fatto un disegnino qui perdonate le mie capacità grafiche che esistano degli oggetti volanti non identificati capaci di performance per noi incomprensibili che siano solidi che si muovono nelle nostre tre dimensioni è un fatto assodato a meno proprio che uno non lo voglia vedere oppure che faccia il debunker come attivissimo che continuano a negare anche le cose più evidenti a questo punto qui si aprono tre possibilità di fronte a questo fatto assodato e cioè o sono tutti oggetti terrestri nel senso che sono magari retroingegnerizzati da macchine volanti trovate in passato venute da fuori ma possono essere teoricamente anche tutti terrestri cioè tutto quello che a noi siamo spiegati magari anche agli stessi militari agli stessi militari che li osservano non sanno che stanno osservando come dire roba nostra è una possibilità o sono tutti extraterrestri oppure può esserci un mix di tutte e due le cose a questo punto se arrivasse la famosa disclosure cioè per disclosure chiariamoci bene intendiamo il presidente degli Stati Uniti magari no perché Biden non gli crederebbe nessuno ma insomma un presidente degli Stati Uniti teorico astratto che va in televisione e dice signori vi dobbiamo raccontare una cosa è da 70 anni almeno che noi abbiamo siamo a conoscenza di questa presenza e noi non ve l'abbiamo mai detto per una serie di motivi adesso ve lo diciamo eccetera eccetera non sono bellicosi oppure stiamo attenti o qualunque cosa però esistono veramente ammettiamo di avervi mentito per 70 anni o aver cercato di mentire per 70 anni eccetera a questo punto questa sarebbe la famosa disclosure eccola qua allora se arrivasse questo evento che molti aspettano a questo punto si aprono anche qui tre possibilità diverse e cioè eccola qua se sono tutti extraterrestri a destra la disclosure sarebbe semplicemente vera cioè ci dicono una cosa che è vera se fossero tutti terrestri sarebbe un inganno dirci che sono macchine di cui non conosciamo l'origine cioè tenderebbero comunque a nascondere la natura che loro conoscono il problema è quello in mezzo cioè se c'è un mix questa è la domanda che voglio fare a te se c'è un mix di roba in cielo un po' nostra un po' no e loro ci dicono esistono gli alieni quanto di questo noi possiamo prendere come è vero e che cosa no cioè come dovremmo comportarci di fronte a un eventuale messaggio del genere ti aggiungo una cosa in più c'è la famosa teoria del progetto Blue Beam cioè molti dicono vedrete che useranno questa scusa degli alieni per terrorizzare ancora di più la popolazione prima c'erano i terroristi poi c'è stato il covid adesso useranno gli alieni ecco tu in tutte queste in questo quadretto che ho fatto io presumendo che sia preciso quale vedi la probabilità più qual è la soluzione più probabile fra tutte ma guarda intanto facciamo così partiamo dal progetto Blue Beam e da una osservazione di ciò che succede sul pianeta Terra noi siamo di fronte ad uno scontro tra potenze da sempre tra potenze o gruppi di potenze se una potenza o un gruppo di potenze possedesse quel tipo di tecnologia avrebbe già con la mentalità terrestre perché di questo bisogna tener conto avrebbe già preso il potere indiscutibilmente su tutto perché in realtà è quello che ciascuna delle potenze vorrebbe fare e adotta tutti i mezzi possibili leciti e illeciti per conseguire quell'obiettivo quindi se fosse tutto terrestre e allora o ce l'hanno tutti tutti uguali un po' tipo la bomba atomica per cui costituisce un deterrente dal valore universale oppure se quella tecnologia contro la quale noi siamo assolutamente inerti la possiede soltanto un gruppo beh quel gruppo cinque minuti dopo diventa padrone del pianeta terra e quindi voglio dire se anche dovessero fare una operazione falsa cioè come dire creare attraverso che so sistema di ologrammi o quel che si vuole perché ormai si può fare di tutto creare una finta invasione e quindi creare paura per poter richiamare tutto il gregge della terra sotto quell'unica potenza e dire non preoccupatevi ci pensiamo noi vi difendiamo però vi imponiamo queste leggi beh io direi che abbiamo forse una garanzia che se lo fa una potenza beh un'altra non glielo lascia fare perché altrimenti vuol dire essere definitivamente sconfitti poi ovviamente ci sono tutti tutti quelli che osservano con mente particolarmente aperta e quindi la cosa potrebbe essere come dire abbastanza facilmente scoperta il fatto appunto che siano tutti falsi ormai non penso che non si possa più sostenere il fatto che siano anche lì tutti veri è difficile da dire perché bisognerebbe avere ovviamente la prova approvata che sono tutti veri quindi ci potrebbe essere un mix certo che se noi pensiamo che per esempio soltanto in Italia ci sono stati più di 3 milioni di avvistamenti 3 milioni di persone che dicono di aver visto tra l'altro persone normali persone che non cercano visibilità che non cercano la fama che non ci ricavano soldi eccetera bene mettiamo pure 3 zeri dopo la virgola quindi facciamo che se di questi 3 milioni 0 virgola 0 0 0 1 per cento è vero vuol dire che almeno 3 non ho sbagliato i calcoli almeno 3 sono veri ora basta che ce ne sia uno vero basta che ce ne sia uno vero per dire che la cosa esiste quindi in realtà il fatto che possono essere un mix poi tu sai meglio di me perché segui più di me anche queste cose se ci sono stati dei contatti è possibilissimo che ci sia un mix di tecnologie anche ma se c'è un mix di tecnologie vuol dire che c'è una tecnologia di partenza più alta che si è mixata con una più bassa e ha dato altri risultati ma questo presuppone che quella più alta ci sia e fate